L'edicola sociale, l'edicola del cuore, l'edicola che accomuna tutti coloro che hanno bisogno di capire, di dare, di ricevere, è un modo come un altro per essere forse nuovi nel ricordare che l'uomo ha bisogno di parlare e non di essere preso dalla tecnologia, ma parlare, parlare e confidare in modo da poter comunicare con l'altro e con Dio. Buona giornata. Siamo con Giorgio Mancarella dell'edicola sociale e via le Marche 13 dei pressi dell'istituto Antonietta De Pace, ma naturalmente ci sono anche, oltre l'aspetto di vicinanza all'alto, c'è anche i giornali regolarmente in vendita. Assolutamente sì, però diventa tutto relativo quando c'è una grande comunicazione. che è quella dell'amore.